Fossi in tempo da mangiare, per raccontare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu. Fossi in tempo da mangiare, per esempio, come vivi tu.